Sì, io penso che noi siamo molto avanzati con la scienza, la tecnologia, però in qualche maniera credo che non ci rendiamo conto di quanto la cultura sia fondamentale, sia la base di tutto. Se noi chiediamo ai nostri politici che cos'è cultura, non sanno rispondere, hanno delle idee molto vaghe, pensano che sia, non so, qualche spettacolo, che sia una mostra da vedere, ma la cultura invece è permeata in tutto quello che noi viviamo nella società a partire dall'arte, a partire dalla capacità di inventare, di creare, di organizzare, ma anche chi organizza o crea un'industria fa un'opera creativa, un'opera creativa che assume anche un aspetto di responsabilità. Quindi la cultura attraverso la creazione poi si diffonde in tutti gli ambiti. Allora, allora, questa, quando si vede che, io mi ero segnato appunto questo, queste due, queste due, oltre a questo episodio che lei ha appena menzionato, io sono rimasto impressionato da quando a Bamiyan, in Afghanistan, sono state distrutte, sono stati distrutti i due Buddha, che erano, io non sono buddista, ma così io credo che questi Buddha rappresentassero un pensiero, rappresentassero una cultura che si poteva poi declinare in tutte le forme di spiritualità possibili. Ecco, quelli hanno prima, dunque questo succedeva nel 2001 a marzo e a settembre sono state abbattute le torri di New York, prima la cultura e poi la politica, dimostra che questa gente sa molto più di noi cosa è la cultura e sanno benissimo che facendo queste operazioni, loro acquisiscono quel potere di base su cui possono poi costruire le loro politiche, le loro economie, le loro strutture e impossessarsi della vita sociale. Quindi l'arte, la capacità di creare, che poi è molto importante anche nell'architettura, è la distruzione di un'architettura, distruzione di una, vuol dire distrugge anche una civiltà, l'architettura rappresenta, rappresenta una civiltà, ma in quella civiltà c'è stato tutto, non c'è stato soltanto i fenomeni di un'arte di divagazione o di aggiunta al reale, è restante nel reale, è restante che ha vissuto, ha lavorato, ha agito, c'è la vita, quindi la rappresentazione che c'è dentro un monumento, che rimane a testimoniare di un'epoca, rappresenta tutto quello che è la vita, la vita proprio, tranci di vita umana. Quindi abbattendo una scultura si abbatte una trancia di vita umana. Questa è la cosa tremenda. Ecco perché io penso come artista che sia necessario che l'arte riprenda un ruolo centrale, che per ricostruire i rapporti tra le persone, rapporti che poi pian piano diventano economia, diventano politica, diventano società. Allora io come artista non mi sono limitato a fare il mio prodotto artistico, ma ho cominciato a pensare che il mio prodotto doveva suddividersi in attività diverse che toccavano poi i vari aspetti della vita sociale. E quindi ho creato a Biella, la città dell'arte, e ho cominciato con l'università delle idee, giovani che vengono da tutte le parti del mondo, a lavorare su un preciso progetto, che è quello di mettere l'arte in connessione con tutti gli ambiti della società. Quindi arte e politica, arte e economia, arte e lavoro, arte architettura, arte fashion, arte e tutti gli ambiti della vita. Adesso qui vedo qua dietro che c'è la, poi ne parliamo dopo, vedo questo terzo paradiso che sta girando.